Questa sera al Chiostro degli Olivetani alle 22 ci sarà il gruppo Motus che proporrà un nuovo lavoro per Festival Opera Prima. Si tratta comunque di un gruppo storico italiano e quindi vi chiederei un po' di parlarci di cosa presenterete. Dunque presentiamo questo lavoro che ha un titolo un po' difficile, Of the Night in the Hand with the Fate, dell'usignolo invidio la sorte, che è una frase che la risposta di Cassandra quando le hanno detto nell'Orestea che le sue parole erano incomprensibili, che sembrava un uccellino, sembrava appunto un usignolo, tanto era selvatica nel suo modo di porsi con gli altri esseri umani e lei ha risposto dell'usignolo invidio la sorte perché è libero di spostarsi e volare, non è obbligato come me in quanto donna a diventare schiava perché era lì nel palazzo di Clitennestra e destinata ad essere schiava e concubina. Rifiuta questa sorte, viene uccisa ma le sue parole continuano a vivere però perché è stata una figura importantissima della tragedia, di tutto il nostro background culturale. Quali saranno le caratteristiche di questo spettacolo? Insomma cosa ci possiamo aspettare? Ma è un lavoro che verrà fatto all'aperto, quindi anche per noi è una delle prime volte che lo presentiamo appunto in versione estiva, quindi all'aperto, poi è bifrontale, vuol dire che il pubblico è sui due lati quindi non sarà uno spettacolo classico visto frontalmente ma sui due lati. È un mix tra danza, danzatrice Stefania Tanzini, musica elettronica e un uso di alterazione della voce quindi c'è una forte componente sonora e fisica che vanno appunto a raccontare questi momenti appunto evocati di questa sacerdotessa importantissima che è Cassandra. Grazie. 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 Grazie.